Buongiorno da Edo, in questa breve introduzione volevo solo dirvi che ho scoperto che c'è uno studio di un'università norvegese, la Norwegian University of Science and Technology, che ha dimostrato, o quantomeno ha scoperto delle evidenze, che ci ricordiamo meglio le cose se ce le scriviamo a mano, con una penna, con una matita su un foglio, invece che digitarle su una tastiera, su un cellulare. Insomma, l'attività del cervello è maggiore se noi scriviamo le cose. E più in generale, se poi generalizziamo questa roba, se noi facciamo qualcosa con le mani, ecco, noi attiviamo più aree del cervello, più connessioni tra neuroni, e quindi quella cosa che facciamo ce la ricordiamo di più. Quindi tutte le volte che prendiamo il telefono per scriverci qualcosa per ricordarcelo, oppure utilizziamo un'app per ricordare o per fare le cose al posto nostro, oppure anche il GPS per navigare, ecco, tutte le volte che delighiamo allo smartphone, a un computer, a qualcosa, stiamo in realtà usando meno cervello, quindi anche se ci sembra di fare meno sforzo, in realtà stiamo indebolendo, stiamo atrofizzando le aree del cervello che dovremmo invece allenare, usare per tenerle più attive. E questa roba qua ogni tanto io ci penso, a dire la verità, questo studio mi ha un po' terrorizzato perché io dipendo tantissimo dalle cose che mi scrivo sul telefono, perché se no non mi ricordo nulla, niente, non saprei probabilmente neanche arrivare alla farmacia che sta a 50 metri da casa mia senza mettermi la mappa sul telefono. No, non è vero. Però non saprei ritrovare la macchina parcheggiata se non mi scrivessi la posizione dell'auto sul telefono, se non mi mandassi la posizione dell'auto. Questa roba qua, insomma, mi fa un po' riflettere. Forse sto delegando un po' troppo il mio cervello, forse il mio smartphone non sta diventando il mio second brain, ma più che altro un sostituto del mio first brain. Questa roba forse mi fa pensare, non so, volevo condividere anche con voi questo ragionamento, che in realtà è una ricerca che è più indirizzata a convincere gli insegnanti, le scuole, a far fare le cose ai bambini con le mani, perché così se le ricordano di più, apprendono meglio, perché, sapete, in Norvegia invece c'è un grosso movimento di transizione delle scuole primarie verso la digitalizzazione. E qui invece studi come questi cercano di far capire che ai bambini è meglio far fare le cose con le proprie mani perché è così le connessioni del cervello e bla bla bla, e quindi apprendono meglio. Ma io invece lo porto verso di meno. Sto forse delegando un po' troppo, quindi il mio cervello si sta atrofizzando? Spero di no. Condivido con voi questo allarme, ecco. State attenti perché certo il vostro second brain sarà sempre più evoluto, ma forse il vostro first brain è quello di cui dovreste preoccupare maggiormente. Vabbè, volevo solo condividere con voi questa notizia preoccupante, ora vi do un paio di news su Lockbit e su Apple, e poi finalmente i link a fine video. Allora, l'8 maggio, notizia proprio di ieri. Le autorità inglesi hanno finalmente rivelato l'identità del leader di Lockbit. Vi ricordate Lockbit, la gang del ransomware, che in febbraio era stato oggetto di quella operazione che si chiamava operazione Kronos, in cui appunto la NSA era riuscita a entrare nei server di Lockbit, sfruttando tra l'altro una vulnerabilità di PHP. Ne avevamo parlato, quindi metterò il link se siete su YouTube qua sul video, così potete andare a rivedere quella puntata. E insomma, grazie a quella operazione avevano praticamente smantellato un po' dell'attività di Lockbit, tra l'altro facendo scendere di brutto il numero degli attacchi, parlano di riduzione del 73% del totale degli attacchi in questi ultimi mesi, ebbene avevano anche scoperto l'identità dei leader di Lockbit, però non l'avevano rivelata, avevano in realtà detto di saperla, cioè avevano scritto tra l'altro sul sito, che poi avevano loro, avevano fatto defacing del sito, quindi avevano sostituito la home page di Lockbit con la loro pagina, e insomma poi avevano scritto varie cose, tra cui sappiamo chi è, sappiamo dove vive, quindi insomma avevano le informazioni già dopo quell'operazione sul leader, ebbene però le divulgano solo adesso per qualche motivo. Allora, ora ve lo dico, il nome di questo che è un cittadino russo, è Dmitry Yuryevich Koroshev, e si sa anche dove risiede, perché risiede a Voronez in Russia, e ha 31 anni. Abbiamo anche una sua foto, è quella qua se state guardando, questa è la foto di Dmitry Koroshev, non so perché abbiamo questa foto tra l'altro, perché è una persona così riservata, che naturalmente non ci tiene tanto a far scoprire la sua identità, però ha questa foto in posa, comunque abbiamo questa foto. E insomma, quindi per qualche motivo, dicevo, le autorità non avevano rivelato l'identità adesso, avevano anche messo una taglia, per chi fosse in grado di rivelare informazioni che portassero al suo arresto, questa taglia esiste ancora, perché naturalmente non lo possono arrestare, perché risiede in Russia, e hanno però messo delle sanzioni, quindi ci sono delle sanzioni su di lui, e un mandato di arresto internazionale. Poi hanno anche commentato che Dmitry Koroshev faceva un po' il figo, lo spavaldo, dicendo che non era assolutamente possibile che scoprissero la sua identità, anzi, aveva offerto lui stesso una taglia di 10 milioni di dollari a chiunque fosse in grado di rivelare la sua identità, mostrandosi proprio così, questa spavalderia, facendo capire che nessuno sarebbe riuscito poi a scoprirlo, neanche quelli della sua cerchia, anzi, mostrando che quelli della sua cerchia più ristretta sono talmente fedeli da non cedere neanche a questa taglia da lui stesso imposta su se stesso, da 10 milioni. Ebbene, leggo da un articolo di Tita Register che c'è un po' di mistero, insomma, attorno all'operazione Kronos, perché pur sapendo l'identità di Koroshev, apparentemente, non l'avevano divulgata. Lui stesso, poi nel frattempo, aveva creato un altro blog, aveva continuato attribuirsi le responsabilità degli attacchi successivi attribuiti a Lockbit, però in realtà quegli attacchi pare che siano episodi del passato, cioè di già vittime di estorsioni in passato di Lockbit, e di altri attacchi, l'NCA pensa addirittura che sia un'opera di altre gang e non di Lockbit. Quindi, insomma, per quanto riguarda quello che riporta l'NCA, Lockbit sta facendo qualcosa, ma poche cose, la sua capacità è stata estremamente ridotta, e quindi anche la minaccia globale. Addirittura hanno appunto riportato il dato che gli attacchi sul territorio UK da febbraio si sono ridotti del 73%, e altri stati nel mondo riportano riduzioni simili. Tra l'altro, Koroshev negli Stati Uniti rischia fino a 185 anni di carcere, per tutti i fatti di cui è accusato. Il ministro della sicurezza britannico, Tom Tugendhat, ha detto i cybercriminali pensano di essere intoccabili, nascondendosi dietro account anonimi, mentre cercano di estorcere soldi dalle loro vittime. Rivelando al mondo uno dei leader di Lockbit, stiamo mandando un chiaro messaggio a questi criminali maledetti. Non potete nascondervi, andrete incontro alla giustizia. Oh, e ora facciamo un salto dai criminali maledetti a Apple, perché ieri c'è stato l'evento Let Lose, e quindi vabbè, sono io curioso di vedere un po' che cosa diavolo hanno presentato e poi faccio un piccolo approfondimento che invece piglio da D-Day sul M4, che in realtà è l'annuncio più croccante, gli altri sono un po' il nuovo hardware, roba che costa un botto e quindi non mi interessa molto. Comunque, cosa hanno presentato al Let Lose di ieri? C'è un iPad Air da 13 pollici, nuovo, quindi nuovo iPad Air da 13 pollici, che quindi è più leggero e meno costoso di iPad Pro, gli ha messo il chip M2 e quindi, insomma, un upgrade all'M1, costa 599 dollari, qui sono su The Verge, quindi prezzi in dollari, prezzi americani, che sono sensibilmente più bassi di quelli in euro, poi lo vediamo. Comunque, 599 dollari per 11 pollici, 799 dollari per 13 pollici. Va bene. Poi, iPad Pro arriva con un display OLED, quindi iPad Pro, che sarà anche più leggero, è 5,3 mm, questo è lo spessore, per la versione da 11 pollici, 5,1 mm per il 13 pollici. C'è anche il nuovo processore M4, quindi è stato rivelato che è il processore che accompagna la propria iPad Pro. Quindi M4, adesso, poi lo vediamo un po' più in dettaglio, il modello da 11 pollici di questo iPad Pro, parte da 999 dollari, quello da 13 pollici di 1299 dollari. Ed ecco quindi M4, quindi nuovo processore, 10 core della CPU, 10 core la GPU, ed è costruito con un processo più efficiente, da 3 nanometri. la CPU è, dice Apple, il 50% più veloce di M2, quindi dice che è un chip incredibilmente più potente per l'AI. Naturalmente, buttiamoci dentro la buzzword del momento, che sennò non vendiamo. Poi, l'Apple Pencil, vabbè, è un nuovo Apple Pencil Pro, che supporta l'Aptic Feedback, con una nuova gesture di squeeze, quindi di strigitura, della penna, che potete usare per aprire il menu. Apple Pencil Pro è compatibile con iPad Pro, costa 129 dollari. A proposito di prendere note a mano, no? Se prendete note, chissà se prendere note a mano, però su un iPad Pro, per il cervello, mette insieme le connessioni neurali. Magari pensando, questa penna mi costa 130 dollari, non lo so. Comunque, Magic Keyboard invece, per chi vuole continuare a digitare, la Magic Keyboard ha un'area di riposo per il polso, non so come tradurre palm rest, in alluminio. Poi c'è un trackpad più ampio, con Aptic Feedback, e una riga di funzioni. Arriva in argento, e Space Black, vabbè, sono i colori di iPad Pro. Insomma, la Magic Keyboard costa 299 dollari, alla versione da 11 pollici, 349 dollari per la 13 pollici. Poi c'è iPad più economico, quindi l'iPad di decima generazione, costa 349, 100 dollari in meno. Vabbè, non ci interessa. E poi la nuova Creative Suite di Apple, c'è Final Cut Camera, che è costruita per supportare la produzione multicamera, se volete fare montaggio video sull'iPad. E poi la, vabbè, si sincronizza con Final Cut Pro, va bene. Alla fine ci sono anche nuove AI Powered Feature per le Audio Workstation, Logic Pro, con un Virtual Base Player e Keyboard Player. Vabbè, se vi interessa, AI anche nell'audio. Ma vado su D-Day, e vado a leggere un po' di info in più su M4. Allora, mi dice questo articolo, la novità più importante dopo il display, che è appunto il display OLED, che arriva su iPad, va bene, è l'arrivo su iPad Pro, prima che su Mac o su MacBook, del nuovo processore M4. Eccolo qua. Basato sull'architettura a 3 nanometri di seconda generazione con 28 miliardi di transistor, il nuovo processore offrirebbe un balzo in termini di efficienza energetica, offrendo lo stesso livello di prestazione di un processore M2 con metà dei consumi. Quindi, no? Ci sono concentrati sui consumi. Fino al 50% in più di potenza di calcolo della CPU rispetto a M2, e fino a 4 volte le performance di rendering rispetto a M2 per quanto riguarda la GPU. Il nuovo M4 offre fino a 10 core di CPU, fino a 6 efficiency core, qui c'è una I che manca, efficiency core, e 4 performance core di nuova generazione con acceleratori per machine learning integrati. E fino a 10 core per la GPU, basati sulla stessa architettura di nuova generazione lanciata con la GPU del processore M3, portando su iPad Pro feature quali dynamic caching, ray tracing e mesh shading con accelerazioni hardware. Quindi, insomma, vabbè, GPU più powerful per giocare a Baldur's Gate 3, evidentemente, su iPad Pro. Allora, enfasi è stata messa soprattutto però sull'accelerazione hardware per le reti neurali, naturalmente, con il nuovo blocco NPU, che credo voglia dire Neural Processing Unit, con design a 16 core, in grado di offrire una potenza di calcolo di 38 trilioni di operazioni al secondo, numeri che fanno girare la testa, pari a 60 volte l'originale NPU, lanciata per la prima volta sul processore A11 Bionic per iPhone. Il processore è dotato anche di un nuovo engine grafico sviluppato non solo per supportare il nuovo display OLED con frequenza di quadro fino a 120 Hz. Frequenza di quadro? Non credo che sia frequenza di aggiornamento. Vabbè, frequenza di quadro, dice D-Day, fino a 120 Hz, ma anche con l'aggiunta dell'accelerazione hardware per la codifica video AV1, che sapete, è un codec video, che però richiede un po' di potenza per essere codificato e decodificato. Vabbè, questo era M4, quindi tanta potenza, di piccole dimensioni e efficienza energetica. Però, arrivano anche le note negative, i prezzi, i prezzi di iPad Pro. Dunque, perché vi ho detto un po' i prezzi in dollari, ma i prezzi in euro sono più croccanti e poi ci sono le versioni top di gamma che non abbiamo ancora visto. Allora, iPad Pro da 11 pollici parte da 1219 euro per la versione con memoria da 256 gigabyte, quindi quella da Poracci. Poi, il modello da 13 pollici, invece, parte da 1569 euro, sempre con 256 gigabyte di storage. Ma, le versioni fino a 512 gigabyte di memoria storage sono dotate di processore M4 con CPU a 9 core, 8 gigabyte di RAM e con display privo del rivestimento antiriflesso Nano Texture Glass. Per avere la versione più potente di M4 con CPU a 10 core e 16 gigabyte di RAM, occorre scegliere almeno il taglio da un terabyte di memoria storage che fa lievitare il prezzo dell'11 pollici a 1949 euro, 11 pollici, 1949 euro senza Nano Texture e 2079 euro con Nano Texture che vi ricordo è l'antiriflesso. Per il modello da 13 pollici, quindi iPad Pro grande, 13 pollici, si parla rispettivamente di 2299 euro e 2429 euro. Ma, attenzione, il top di gamma il top di gamma da 13 pollici con 2 terabyte di storage e rivestimento Nano Texture costa la bellezza di 2909 euro. Pensate a prendere appunti su un iPad Pro da 2909 euro, ve li ricordate sicuramente. Allora, nei link che vi lascio oggi il primo me l'avete segnalato voi, me l'ha segnalato l'utente Rioma 123, Rioma 123 che sta sul livello segreto su Mastodon, appunto me l'ha segnalato su Mastodon ed è questo link che parla di una nuova distro Linux per il gaming, si chiama Playtron, eccolo qua, vi lascio naturalmente questo link che trovo su Gaming on Linux, cioè che trovo che mi ha segnalato Rioma su Gaming on Linux, è una nuova distribuzione Linux che, insomma, è incentrata sul gaming, però c'è dentro anche un po' di blockchain purtroppo, perché poi l'hardware, il primo hardware su cui è stato annunciato questa distribuzione è qualcosa che si basa su una blockchain che si chiama SUI, una blockchain, non lo so, roba di blockchain. Comunque, è una distribuzione Linux e su questo link se vi interessano queste robe, quindi distribuzione Linux per il gaming, un po' come Steam Deck, no? Però Steam Deck è sostanzialmente gira tutto attorno a Steam, quindi è vero che è distribuzione Linux ma sostanzialmente la utilizzate per usare Steam, mentre con questa distro potete far girare anche Epic Games, GOG, eccetera, oltre naturalmente a Steam. Ebbene, c'è su questa pagina una FAQ che loro hanno pubblicato sul loro Discord e quindi si vedono un po' di cose in più, un po' di dettagli in più, tra cui anche i device, l'hardware supportato, o almeno l'hardware su cui l'hanno testato, tra cui c'è anche lo Steam Deck, e poi un po' di informazioni su Playtron, per esempio scopriamo che è basata su Fedora Silverblue, quindi la famiglia Atomic Desktop di Fedora e sarà disponibile nell'estate 2024. Poi ci sono un po' di info in più, tra l'altro anche si parla di criptovalute, quindi si dice che sarà supportato questo wallet sui appunto per fare giochi Web2 e Web3, non so perché c'è anche Web2, non lo sapevo che c'era anche Web2, non lo sapevo, perché Web2? Sapevo solo di Web3, vabbè, c'è Web2, vabbè, un po' di roba è blockchain, però in generale pare una distribuzione Linux con un po' di roba, un po' di sovrastrutture, ecco, per il game, tra l'altro parte di queste sovrastrutture paiono non essere open source, perché per quanto riguarda l'open source c'è il codice della distro, quindi del sistema operativo che è open source, il resto ci sarà una documentazione dell'API, però per adesso non è open source, vedremo, insomma, se vi interessa da lì accedete anche alla pagina web di Playtron, dove vedete un po' di informazioni in più, un po' di animazione, non lo so, potrebbe essere un progetto carino, però consiglio di andarci un po' con le pinze, insomma, leggetevi un po' questa FAQ e vedete se fa per voi, ve lo lascio però questo link, perché me l'avete segnalato, io mi fido delle vostre segnalazioni, grazie Rioma123 e poi invece vi do questo link in cui qua voi dovete fidarmi di me invece, perché è una è una roba che vi consiglio di darci un'occhiata, altrimenti non ho letto tutta questa roba, non ho letto tutto questo libro, perché questo è un libro, si chiama The Nature of Code, l'ha scritto Daniel Schiffman ed è un libro che potete comprare in formato fisico, ma potete anche leggere interamente qua sul sito natureofcode.com e in pratica, come dice anche lui nell'introduzione, è un libro in cui cerca di simulare gli effetti naturali, quindi le cose fisiche, le cose che si trovano in fisica e in natura, con il codice, utilizzando tra l'altro P5JS, una libreria JavaScript, lui aveva già scritto un libro in cui faceva queste simulazioni però utilizzando Java, adesso utilizza JavaScript e quindi trovate un po' di analisi di effetti naturali e la loro riproduzione in codice, con snippet di codice che vi fanno riprodurre appunto con P5JS questi fenomeni ed è molto figo, per esempio qua apro a caso il capitolo sui frattali, vedete che fa un po' di esempi di frattali in natura, spiega cosa sono, come si creano in natura, come si possono definire come fenomeno naturale e poi parla di come implementarlo in codice utilizzando funzioni ricorsive quindi qua voi praticamente imparate se non siete familiari proprio con il concetto di funzione ricorsiva e con degli esempi che vi permettono di creare dei frattali c'è la matematica dentro naturalmente ci sono algoritmi insomma implementando queste funzioni voi di fatto state implementando un frattale però state anche imparando la ricorsione quindi è un po' un modo per andarsi a vedere un po' di programmazione ma insomma anche divertendosi con fenomeni naturali matematica se vi piace anche la grafica i videogiochi potrebbe essere carino ci sono anche verso la fine vedete le reti neurali che potrebbe essere molto interessante da vedere però ci sono un po' di robe fisiche forze vettori oscillazioni insomma molto figo tra l'altro un lavorone perché è veramente lunghissimo questo è un librone è un libro un librone tanti costa tipo 40 dollari però poi lo trovate interamente qua tutto su natureofcode.com dateci un'occhiata secondo me insomma va tenuto nei bookmark ogni tanto magari lo si apre lo si spulcia è super figo c'è anche tutto il codice su github quindi insomma io vi lascio il link a natureofcode poi dateci un'occhiata e mi farete sapere ho finito qui grazie per avermi ascoltato tra l'altro ho cambiato in quadratura nel frattempo non so perché ma ho sbagliato a settare la videocamera quindi sono molto più basso del solito non va bene comunque vabbè la sistemerò grazie per avermi seguito dicevo e mi raccomando prendete gli appunti con la penna che sennò vi scordate tutto e basta allenate il vostro cervello sennò si atrofizza a un prossimo buongiorno ciao ciao